Del movimento 5 stelle, oggi abbiamo qui con noi Andrea Cerconi, sai che noi abbiamo sentito, siete diventati anche voi un partito. Eh no, il partito no, però ragazze, non si può dire questa cosa, non siamo un partito. Il tuo amico Villarosa, pensi caro, che il movimento presto lui lascerà. No Alessio rimani con noi, veramente abbiamo bisogno di te. Non c'è più rispetto delle regole, nel tuo movimento la colpa di chi è? Poche regole, pochi statuti e rispettiamo quelle quattro regole che ci siamo dati, non rincole. Facciamo i bravi, rendi contiamo, stai nella tua villa in Toscana che adesso ci pensiamo a noi. Secondo te, un po' Grillo è depresso, è depresso. No, non è depresso, ma siamo molto impegnativi, le abbiamo dato molto da fare, povero Grillo. Salirò, 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 tra le rose di questo giardino. Mi viene in mente solo una canzone di Masini, ma non gliela canto, la riservo per me e per voi che avete già capito. Ciao, ciao, ciao Giacconi, ciao, 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 ritorna presto da noi. Ciao. 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 Ciao.